Pagina politica, prove tecniche di sfiducia all'operato del sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo da parte dei consiglieri comunali d'opposizione che a distanza di oltre un anno dall'insediamento della giunta di centrosinistra hanno emanato un documento in virtù della quale hanno denunciato la grave crisi economica su cui versano le casse comunali. Il documento sottoscritto da più consiglieri comunali di centrodestra ha assunto la denominazione di mozione di sfiducia all'assessore al bilancio del comune di Caltagirone le cui deliche sono assunte dallo stesso sindaco. Ebbene il documento è da intendersi come mozione di sfiducia individuale in quanto non potrà mai sortire alcun effetto decadenziale o che obblighi il primo cittadino alle dimissioni in quanto non è contemplato dall'ordine degli enti locali. Come centrodestra ha unito presentato questa mozione dove chiediamo che si tratti in consiglio comunale di questa relazione del Regione Generale dove dice che non è in grado di fare un piano stabilmente equilibrato e quindi lascia la città nel baratro. Si tratta più precisamente di un atto d'accusa politica nei suoi confronti per le scelte sinora operate sul fronte della programmazione economica e sulla dichiarazione di disesto attuata dall'amministrazione comunale. Questo deve essere chiaramente trattato in consiglio comunale, impegniamo e chiediamo al sindaco di inviare le risultanze di questo consiglio e di quello che si è deciso, che ha detto in ragione generale sia al Ministero, sia alla Corte dei Conti, sia all'assessorato agli enti locali e chiediamo al sindaco di licenziare nei fatti questo collaboratore specialista che si è preso per riuscire a essere aiutato sul bilancio che è costato 40.000 euro di soldi pubblici e ha portato da non avere un bilancio e da non avere un piano stabilmente equilibrato. I firmatari del documento accusano il sindaco che alla luce del lavoro svolto dei consiglieri della commissione bilancio è stato possibile recuperare soltanto 2 milioni di euro, ciò a fronte della pesante situazione debitoria dell'ente comunale. Altri atti d'accusa sono poi le situazioni legate alle tariffe del canone unico patrimoniale e del documento redatto dai membri dell'ordine dei dottori commercialisti che hanno invitato l'amministrazione a rivedere canoni e tariffe su determinati tributi. Chiediamo contestualmente che l'assessore al bilancio che è anche il nostro sindaco si dimetta perché non si affrontano così i problemi, non si può decidere di andare verso il dissesto e per non avere un piano di riequilibrio pronto perché questo porterà la città all'immobilismo totale per non si sa quanti anni. Questi ed altri motivi del contendere saranno quindi oggetto di discussione nel corso delle prossime sedute del consiglio comunale. In parole semplici le forze politiche d'opposizione invitano il sindaco a lasciare la delega di assessore bilancio e di passare le competenze economiche a un esperto o altro assessore che si occupi a pieno titolo delle materie finanziarie del comune. E quindi chiediamo che il sindaco prenda le giuste conseguenze e tragga una sola conclusione si dimetta, vada a casa, faccia venire qualcuno che ha la capacità di fare un bilancio e un piano stabilmente equilibrato per far sì che la città di Caltagiron rinasca e continua ad andare avanti perché se no rischiamo che per i prossimi anni staremo fermi a non poter fare niente, la città non ce lo può permettere.